Ciao, abbiamo qui con noi uno straordinario quartetto d'archi per cui immagino che vi faremo un pezzo con gli altri. Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità, questa nazione brutta ti fa sentire asciutta, senza volontà, e gioca a fare Dio manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità, ma non c'è niente che sia per sempre, perciò se da un po' che stai così male il tuo diploma in fallimento tu hai una laurea per reagire, puoi fingere bene, ma so che hai fame. Tutta efficacia, razionalità, niente può stupire, e non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire, ma tu rifiuti da ascoltare ogni segnale che ti può cambiare, perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. ma non c'è niente che sia per sempre, perciò se da un po' che stai così male il tuo diploma è un fallimento alla laurea per reagire, sai fingere bene, ma so che hai fame. non c'è niente che sia per sempre, è troppo ormai che stai così male il tuo diploma il tuo diploma è un fallimento alla laurea per reagire, non è niente, non è che sempre. grazie grazie il mio forte grazie grazie grazie